Di nuovo insieme cari marchigiane, cari italiane, 2 di aprile. Ripartiamo così con i vostri saluti. È un po' che non bazzicavo la diretta Facebook da dove ci scrivete. Nadia, buongiorno. Patrizia, buongiorno. Silvana, buongiorno. Roberta, buongiorno. Le quattro, le quattro splendide ragazze che ci salutano. Mi mandi i saluti dalla Francia, da Val Serone. Non so se la pronuncia è corretta. Roberta, io sono più un anglofono. Mi fa piacere però che ci seguono anche da fuori Italia addirittura. Buongiorno. Vorrei fare un complimento ai ragazzi 2014 del Marina Calcio che hanno vinto la decima Coppa Marche alla Bianchelli di Senigallia. Bravissimi. Complimenti ragazzi del 2014. Mamma mia che piccinacchi. Complimenti a loro. Non mi sembrano tanto da 2014. Belli grossetti questi qua. Bravi, bravi. Fai bene a citare i giovanissimi che giocano, che si divertono, che fanno sport. Con tutto il rispetto per la tragedia vissuta dalla famiglia, si può capire lo strazio di veder soffrire una persona cara. Ma come si fa a scegliere di tirarle una fucilata? La povera signora avrà anche smesso di soffrire, ma in un modo davvero cruento. Questo è il pensiero dell'amica Cinzia in riferimento effettivamente ad uno dei titoli più forti che si possano leggere. La uccisa per amore. Questa contraddizione in termini decisamente viene da Corridonia. Sapete che c'è? Visto che dopo la prima ora e un quarto andiamo a sfogliare i giornali a grande richiesta. In tanti hanno commentato questa notizia. Vado a leggervi l'edizione del Carlino Maceratesi, vi compreso questo tema. Lo sfogliamo insieme. Infatti la prima notizia è proprio questa qua. L'omicidio di Corridonia. Uccide la moglie malata con un colpo di fucile in casa. Poi cerca di togliersi la vita. La vittima è l'86enne Palma Romagnoli. Tra l'altro si chiamava come la mamma di mio babbo. A colpirla Bruno Cartechini, suo coetaneo, il marito. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso. Non è riuscito a togliersi la vita. È in condizioni disperate a Torretta. Rispettiamo questa famiglia con il silenzio. Questo l'appello del sindaco di Corridonia, Giampaoli. Inevitabilmente nel giorno della tragedia, il giorno dopo, se ne parla per forza di cose. Però capisco la richiesta del sindaco. L'anziano è indagato per omicidio volontario, aggravato dal vincolo di parentela. Una sofferenza insopportabile. Lo shock dei vicini di casa. Parenti e amici raccontano. Lei stava male, ma mai avremmo immaginato questo epilogo. In tanti state commentando. Fateci sapere. Sfogliamo le pagine interne. E' altra tragedia. Tra Pasqua e Pasquetta. Strade di sangue. Schianto in auto contro un albero. morto una ventunenne. Feriti gli amici. Eccola. La macchina a bordo della quale c'erano cinque ragazzi. Incidente nel Fermano a Francavilla. A perdere la vita allo studente universitario moglianese Federico Garulli. Un secondo ragazzo e in gravissime condizioni all'ospedale. Anche gli altri tre occupanti della macchina. Mi hanno chiesto che modello è, che macchina è. C'è scritto sul giornale. E' un apolo. Ma non credo che questo incida o abbia inciso sulla drammatica vicenda. Ancora notizie. Vi porto ora verso la provincia. E allora andiamo a Civitanova Marche. Il mare in burrasca non rovina la Pasquetta. I ristoranti fanno il pieno di giovani e famiglie. Mare un po' grosso. Vento un po' forte. A un certo punto nel pomeriggio è pure caduta la pioggia. Ma nonostante tutto operatori soddisfatti nonostante il tempo incerto. Tanti turisti anche dall'Umbria. Festival del cibo di strada. Buona affluenza anche l'ultimo giorno. In realtà qualche disagio c'è stato al di là di una macchina che ha tagliato la rotatoria di Marotta ci segnalano. Poi andrò a cercare qualche immagine al riguardo. Ecco quello che è successo per colpa del maltempo. Sottopasso allagato. Evacuato lo stabilimento virgola zero uno. A causa del mare grosso si allaga il sottopasso. Siamo a Civitanova. Evacuato lo stabilimento virgola zero uno. Ieri alle sedici sono intervenuti i vigili del fuoco. Insomma una situazione abbastanza delicata. Copertura dei campi da padel. Ora si gioca anche contro il maltempo. Terminati a Monte Cosaro i lavori dell'impianto di via Rossini e poi attenzione abbattuta la colonnina dell'autovelox. Torniamo a Civitanova. Poi cambiamo provincia. È stata colpita da un'utilitaria sabato poco dopo le 23. Ma stavolta il discorso dei cosiddetti aggressori degli autovelox non c'entrano. È stato un incidente stradale. Pronta l'edizione per Ancona e provincia. Sempre con il Carlino. Poi sfoglieremo anche il Corriere. Auguri intanto alla grande Clara di Acqua Santa Terme che festeggia cent'anni. Cent'anni non di solitudine. Come direbbe Gabriella Garcia Marquez. Leggetevelo. Leggete. Leggete. Perché la testa è come un libro se aperta funziona meglio. Quindi cent'anni non di solitudine per dirla con Gabriella Garcia Marquez. Non si capisce quasi niente del libro ma è stupendo. È come fosse una poesia di 400 pagine. Questo è l'augurio che facciamo anche noi da ITV a Clara di Acqua Santa Terme. Complimenti signora. Guardatela anche come è bella e elegante. È bella linda e pinta. Un abbraccio speciale. Buongiorno Maurizio. Che pensi di questo immediato intervento di Mattarella sul caso Salis. Una concittadina che ha commesso un reato avrebbe perché c'è il processo. Attenzione. Su queste cose. In un altro paese che ovviamente opera in base alle sue leggi. Mentre ha taciuto su tante altre in atto nel mondo contro nostri connazionali ingiustamente perseguitati. Forse perché una parte politica sta utilizzando la questione ideologicamente deve sempre fargli da sponda. Ora sulla questione di una parte politica che sta prendendo a simbolo il caso Salis sono d'accordo con te. Su Mattarella invece io questi sospetti di fare come dici tu sempre da sponda alla sinistra non li condivido. Onestamente non credo. Mattarella si è sempre o ha sempre cercato di essere come richiede il ruolo istituzionale super partes. Questa è la mia opinione visto che me l'hai chiesta. Comunque che il caso Salis sia stato utilizzato anche dalla centrosinistra sono anche io sono d'accordo. Al Sanzio inizia l'era Sky Alps. Stavolta non è un pesce d'aprile. Primi decolli per Milano Linate lieti di coprire i collegamenti cominciati i voli con qualche minutino di ritardo. Con un po' di ritardo ma ci può stare. Questa è la prima notizia del Carlino edizione per Ancona e provincia. La sfida culturale archeologico e omero assalto ai musei. Bilancio positivo segno che la cultura paga. Mete preferite Duomo e Santa Maria della Piazza ma molti locali chiusi e questo il rammarico di tanti turisti. Questa invece non c'entra nulla con il turismo. Si parla di cronaca legata alle spiagge. Mareggiate da incubo a Marina. L'Adriatico si mangia la strada. A rischio anche le abitazioni. Tratto di costa. Guardate che roba. Flagellato dalle onde. Nonostante i lavori i residenti lanciano l'allarme. In poche ore spariti un paio di metri di lungomare e parcheggi. Siamo preoccupati. Immaginatevi avere una casa lì a 5 metri, 6 metri dalla forza del mare. La conta dei danni. Cittadini con il fiato sospeso. Un pericolo costante. Ecco anche i detriti che arrivano se non addosso alle case quasi. Situazione simile per certi aspetti anche a Porto Recanati. Intanto l'aria di Porto Nuovo, fortuna per loro, è migliore. Incanto di Pasqua, il vento del Sahara e le onde. Migliaia di persone nella baia che si trasforma in un paradiso per i surfisti locali tutti pieni. Questo combinato di aria calda e di vento forte ha trasformato, guardate un po', Porto Nuovo Beach in una spiaggia quasi californiana. Paradiso dei surfisti. Porto Nuovo, oltre che per assaggiare le predibatezze culinarie, sta diventando sempre più meta di centinaia di appassionati del mare che si lanciano nella cavalcata delle onde, approfittando di giornate come quella appena trascorsa. Sul meteo per i prossimi giorni c'è ancora da surfare per dirla con lo slang di Porto Nuovo. Oggi bello con vento ancora forte, domani coperto ma temperatura in crescita e poi fino a sabato compreso è bello bellissimo. Eravamo con il Carlino dedicato all'Anconetano, lo sfogliamo ancora perché abbiamo da raccontarvi zone di pagine interne, per esempio è pronta a Falconara, ma prima di nuovo i vostri messaggi. Francesca Marasca, buongiorno. Anna Pia Saccomandi, buongiorno all'amica che guida insieme con tanti altri volontari. Ecco tuo figlio, l'associazione legata all'affido. Fabiola che dice ciao, parlo da disabile in terapia con la morfina. Fabiola un abbraccio immenso, un conto è la disabilità, un conto è la sofferenza quotidiana. Per me l'ha fatto per amore. Grazie Fabiola, Fabiola sta con quest'uomo che ha compiuto l'estremo gesto. In tanti hanno criticato questo titolo del giornale forte, l'ha uccisa per amore. Roberta Laloni intanto, buongiorno. Buongiorno anche a chi ci manda delle foto. Buongiorno Maurizio, sono Mario da San Rocchetto. Ancora ci troviamo a queste condizioni da vergogna dal 21 di marzo. Me la ricordo questa foto. L'amico di San Rocchetto ci ha dedicato questo scatto fotografico con una scena abbastanza penosa perché c'è un cartello stradale che dice occhio c'è una buca pazzesca, c'è anche un tombino lì della si legge fiber cop, ma chi tocca sistemare perché se una bicicletta passa di lì ci casca sopra, se un motorino ci passa di lì e ci casca, se una macchina passa di lì, se la gomma non è buona, rischi anche di spaccarla. Da che parte? San Rocchetto di dove però? Facci sapere. Comunque fare due passi dopo il pranzo di Pasquetta fa digerire solo se arrivi in Patagonia. In effetti sì, c'è chi dice niente per digerire ho fatto una passeggiata a lungomare sono arrivata a Bari. Completiamo il quadro del Carlino per l'Anconetano, pronte poi altre edizioni. Ecco la panchina rossa dedicata all'amore, l'annuncio della famiglia Contini, sabato l'inaugurazione sul Belvedere di via 8 Marzo a Falconar Alta, il sogno del centro sportivo. Osimo, bando per gli alloggi ERP. In attesa ci sono 106 famiglie. Edilizia residenziale pubblica, la nuova graduatoria per le assegnazioni. L'80% dei nuclei familiari in lista è composto da più di 4 persone. Iesi, ascensore in municipio, via Libera, ai lavori, stop alle barriere architettoniche, sarà realizzato in via Farri. Fabriano, il caso Orte-Falconara, ricorso al Consiglio di Stato. Il comune di Serra Sanquirico non molla, prepara l'appello contro il progetto e Castelplanio cerca di ottenere intanto migliori compensazioni. A Senigallia, lavori ed eventi, così rinascono le frazioni, il piano dell'assessore Cameruccio. Così abbiamo girato, un pochettino, anche per la provincia di Ancona. Pronta l'edizione del Carlino per il Pesarese, ma come sempre ripasso un attimo dal via Francesca, Anna Pia, Fabiola, Roberto in via Corvalan. Grazie, ma dove, in quale zona, in quale provincia? Salve, il progetto di arretramento della ferrovia a 10 metri dal mare è stato approvato perché il mare crescerà un centimetro l'anno. Che si aspetta fare questo provvedimento? Insomma, l'arretramento della ferrovia da un lato, il raddoppio della ferrovia dall'altro, sono due progetti che adesso, in questo momento, sono al centro di un grande dibattito. I sindaci della costa su questo tema hanno promesso battaglia. Alberghi e ponte di Pasqua, siamo a Pesaro, una metà sono rimasti chiusi, gli altri hanno fatto il pieno grazie al turismo sportivo, perché quando c'è un evento sportivo la gente viene per tifare, per mangiare, per dormire. A Pesaro impazzano i gruppi, in questo momento arrivano praticamente solo i pullman che vengono a visitare la capitale italiana della cultura 24. Buon pesce d'aprile, pesce d'aprile in agguato, ma nessuno ha boccato. Nell'uovo di Pasquetta c'è stato il pesce d'aprile, autore dello scherzo, l'albergatore Pinoli, che scrive, è scomparso da giovedì sera il giornalista, insomma uno scherzo che non ha avuto successo, dice il Carlino. I dieci anni di Ricci, avete un giudizio, un bilancio, un commento, fateci sapere, il più lontano dalla tradizione di governo della sinistra. L'ex sindaco, Giovanelli, a tutto campo sull'era di Matteo, ha pensato più all'io che a noi e questa non è una cosa di poco conto per chi ha la nostra cultura politica. Insomma un giudizio molto severo di Giovanelli nei confronti di Ricci. Che cosa ne pensate? Fateci sapere. A proposito della ferrovia, ve lo dicevo proprio poco fa, ferrovia tiramolla, Ricci che dice andrò alle ferrovie, il bypass da Pesaro a Fano si farà. Il sindaco non ha dubbi di alcun tipo, non ci pensino proprio a togliere un miliardo e otto e a Bologna l'amministratore delegato di Ferrovie conferma il piano. Quindi si fa il bypass o tutto viene inglobato nell'arretramento complessivo e nel raddoppio della linea? Punto di domanda. Quindi fare piccole opere, ma importanti come il bypass o fare un'opera più strutturale che potrebbe richiedere invece però più tempo? Eh, è l'uovo oggi o la gallina domani. Covid, fondi boomerang, chi ha risparmiato? Dia indietro il resto, mannaia su Vallefoglia. Lo Stato, questa va spiegata, lo Stato italiano reclama la quota eccedente rispetto ai bisogni documentati degli aiuti Covid alle province. In provincia 15 comuni dovranno pagare cifre tra 2.000 e 300.000 euro di fondi Covid. Invece di premiarci per la buona gestione ci penalizzano il danno e la beffa. Insomma, i comuni che erano in crisi Covid hanno ricevuto degli aiuti economici perché non si pagavano le tasse, perché si faceva fatica anche a pagare le bollette in epoca Covid. Lo Stato aveva dato dei soldi ai comuni del Pesarese. Chi li ha risparmiati, quindi è stato bravo a gestirli. Chi non li ha spesi tutti, adesso lo Stato li rivuole indietro. Troppi poveri in fila ai servizi sociali. Siamo ancora a Pesaro. Il Consiglio Comunale chiede il ritorno dell'arreddito di cittadinanza. Ha approvato una mozione alla maggioranza che impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare addirittura il ripristino della misura che invece il governo Meloni ha deciso di abbattere. Terremoto, elezioni sulla Carnevalesca. Siamo a Fano. Si dimettono Gianmarioli e Mirisola. Flora, la mitica Flora Gianmarioli, la presidente della Carnevalesca, annuncerà oggi ufficialmente la sua discesa in campo, in politica e di conseguenza l'addio all'ente perché non ci può essere compatibilità tra la presidenza della Carnevalesca e appunto la candidatura. Si candida con Fratelli d'Italia. Il suo vice è in lista con la Lega. Subentrano in Consiglio Eusebi e Paluzzi. Su questa candidatura abbiamo ricevuto anche messaggi. Lo sapevo, lo sapevo. Insomma, opinioni, cosa volete esprimere rispetto alla presidente della Carnevalesca che si candida con la Fratelli d'Italia. Siamo a disposizione. Fano. Brutta storia. Accoltellamento in piazza Costa. Denunciato ma libero l'aggressore. Si tratta di un 22enne egiziano che sabato ha ferito un 26enne tunisino. Cinque giorni di prognosi. Ma intanto scoppia il caso delle immagini. Appartengono all'amministrazione. è grave che siano state diffuse anche perché in fase di campagna elettorale trasmettono, secondo anche fonti della centrodestra e quindi dell'opposizione, trasmettono un'immagine di pericolosità di una città che Seri non vuole far passare, dicono dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Buongiorno e buon martedì. Torno un attimo da voi da Casine di Ostra. L'amica Serenella ci incanta con questa bella immagine d'ambiente di natura. Buona saluta a tutti da Carina, la mia curanderas. Grazie. Un abbraccio a Carina. In effetti è carina. È carina la gattina. Ci cura anche lei, visto che si chiama così. Immagini di scenari meravigliosi. Giussi di Arcevia. Quattro scatti dal terrazzo di Arcevia. Andiamo un attimo ad Arcevia insieme? Basta un clic. Oggi il cielo è bello, ripulito, ma i miei vetri no. Ieri pomeriggio pioggia con sabbia. È vero. Ieri c'è stato questo vento del Sahara molto forte che ha determinato anche un pochettino di danni. Non so se sia stata colpa del vento per cui quella macchina che è finita contro la rotatoria di Marotta. Non so se è stato il vento, onestamente. Carla, buongiorno. Mirta, buongiorno. Francesca, Anna Pia, buongiorno. Io l'avevo cercata questa storia della macchina finita sulla rotatoria, ma non l'ho trovata per il momento. Intanto completiamo con Urbino. Amici, i nazisti 80 anni fa uccidevano Dini e Salvalai. La città non dimentica i due partigiani. Avevano 17 e 22 anni. Dopo la cattura furono esibiti come trofei per la città. Portati a Massa Lombarda poi vennero fucilati. Due vie oggi ricordano Dini e Salvalai nei pressi dei Vigili del Fuoco e alla Pince. Così abbiamo dato lettura del pesarese. Manca il Fermano sempre con il Carlino e poi mi rituffo sul Corriere in questo giro di informazione che spero possa darvi soddisfazione. Questa è la prima del Carlino Fermano con questo campione di motociclismo dovizioso, lo ricordate, dovizioso, che ha girato sul circuito di Ponzano. Qui c'è tanta professionalità. Questa è la sua modalità sorridente anche perché è stato operato nelle Marche e l'intervento è perfettamente riuscito. Musei, ristoranti, manifestazioni. Buona prova d'inizio stagione in 5000 per la festa in piazza del popolo che si è trasformata, affermo, in una grande discoteca all'aperto con DJ set fino a notte fonda. Successo per il biglietto unico con il quale si potessero visitare le attrazioni sold out per il terminal dei palazzi, in particolare il palazzo dei priori. Soccorso un ciclista sui sibillini scivola nel dirupo in mountain bike, giovane sportivo portato a Torrette, il 37enne residente a Falerone. Ancora lo sport che porta turisti sold out per Pasqua. Il torneo giovanile di calcio con i piccoli atleti e le famiglie hanno riempito strutture ricettive e ristoranti per tutto il ponte. Tante iniziative di sport tra giovani e giovanissimi sono state protagoniste di questo periodo pasquale. Porto Sant'Elpidio, centro medico unico. Novità in arrivo, annuncia Traini, il polo per i dottori di medicina generale. Già in 15 hanno dato la propria disponibilità a mettersi tutti in una stessa sede. Questo renderebbe anche più veloce, più facile, più economico la gestione. Auto contro un albero, questa purtroppo l'avete commentata in tanti, è la notizia peggiore insieme con l'anziana ammazzata dal marito, l'anziana malata di questa Pasqua. Auto contro un albero, ragazzo perde la vita. Siamo a Francavilla, Dete, la vittima è di Mogliano. Con lui c'erano altri quattro giovani, uno dei quali è in gravi condizioni. Sono tutti a torrette. I feriti sono stati portati ad Ancona in ambulanza. L'elisoccorso bloccato per colpa del forte vento del Sahara di ieri. Purtroppo il vento forte non ha reso possibile l'intervento dell'elicottero. Pasquetta che si è chiusa nel peggiore dei modi, amiche amici del Fermano. Un'auto con a bordo cinque ventenni di Mogliano nel Maceratese. Forse di ritorno da una gita è finita fuori strada e quindi contro un albero. Purtroppo per un ragazzo di ventuno anni solamente non c'è stato nulla da fare. Continuano ad arrivare riflessioni, anche critiche, polemiche rispetto a questo titolo che è piaciuto a pochi perché c'è l'applicazione di due concetti tendenzialmente contrastanti, l'amore e l'omicidio. L'ha uccisa per amore. Siamo di nuovo a Corridonia, spara alla moglie malata, poi tenta di togliersi la vita. Noi abbiamo raccontato in questi due giorni la vicenda con i nostri telegiornali. Vi ricordo gli orari 13 e 20, 14 e 20, 19 e 20, 20 e 20 e a luna di notte. Come li abbiamo raccontati questi episodi? Facendo un insieme di drammi. Valeria, Giuseppina, Rita, Palma, donne malate uccise dai propri mariti perché il caso della signora Palma purtroppo non è l'unico. Valeria, Giuseppina, Rita e ora anche Palma, donne malate uccise dai rispettivi mariti che non riuscivano più dopo aver trascorso insieme una vita intera a sopportare il dolore e la sofferenza delle loro compagne costrette a vivere nella malattia. La storia di Palma Romagnoli, 86enne di Corridonia, uccisa dal marito a colpi di fucile mentre si trovava a casa nella loro camera da letto, è solo l'ultima di una lunga serie. Valeria Baldini, 77 anni, è stata soffocata dal marito 80enne nella loro casa di Senigalia. Era il 21 ottobre 2022 lei era malata di Alzheimer e lui, ha riferito, non voleva più sentirla urlare. Giuseppina Traini, 85 anni, è stata accoltellata a morte dal marito di 87 anni nella loro casa a Capodarco di Fermo il 25 febbraio 2023. Da diversi mesi la donna era costretta a letto per una malattia. Il marito ha spiegato di non riuscire più a tollerare la situazione. Rita Talamelli invece aveva solo 66 anni ma conviveva da tempo con diversi problemi psichiatrici. È stata strangolata dal marito di 70 anni lo scorso novembre nella loro casa di Fano. La causa della tragedia? Secondo molti la malattia della donna in costante peggioramento. Malattie fisiche ma soprattutto psicologiche. Malattie che distruggono vite e famiglie che emergono quando oramai è troppo tardi. Anche per Palma a cui il marito ha sparato nel giorno di Pasqua non c'è stato scampo. Lui invece dopo aver tentato il suicidio è ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale regionale di Torrette dove lotta tra la vita e la morte. Se sopravvivrà dovrà affrontare un'accusa di omicidio sul corpo della moglie. Intanto è stata disposta all'autopsia. Questo il titolo e questo l'approfondimento. Il titolo che tanto vi ha fatto discutere l'ha uccisa per amore vittima 86enne Palma Romagnoli e poi lo spunto della collega Laura Meda che racconta episodi precedenti quando dopo una vita insieme il marito che accudisce la moglie malata non ce la fa più e decide di ucciderla. Lamin, buongiorno, Marco Paci, buongiorno, Diego Cherubini, buongiorno, Roberto Bernardi, buongiorno, grazie, siete in tantissimi anche in questo momento. Buongiorno a tutti, viva le tradizioni, lo scoccetto delle uova sode a Pasqua a San Ginesio di Arcevia. Saluti e auguri da Terzina, dalla nostra mitica terzina, guardate un po', eccolo qua, il giuoco che tra l'altro ha vissuto un campionato anche nazionale qualche giorno fa con un marchigiano che si è imposto protagonista assoluto. Mi dovrei fermare giusto il tempo prima di passare alle edizioni locali del Corriere dopo aver sfogliato le edizioni del Carlino. Riparto dal sito del Corriere giusto per dare un respiro regionale. A San Benedetto si cercano locali per senza tetto e per persone in difficoltà. A Pesaro, anzi, questa è la vicenda di Fano, l'aggressione in centro a Fano. Il sindaco Seri parla di un episodio subito risolto. Fano resta una città sicura. Le immagini che sono state diffuse sono di proprietà del comune gravissimo che siano state distribuite. Questo dice il sindaco Seri. Dall'altra parte le opposizioni di centrodestra dicono no, doveroso mostrare le immagini. Fano non è una città sicura. Di mezzo c'è la campagna elettorale. Nel Fermano manca il medico di turno. L'ultimo episodio solo in ordine di tempo. Allerta ad Amandola. L'emergenza tamponata solo nelle ore notturne. Mancano professioniste e professionisti. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato? Pronto soccorso di San Benedetto del Tronto. 18 posti in 7 si sono presentati. Andiamo ora invece al Maceratese. È morto a 71 anni il luogotenente esposito. Era stato comandante a Sarnano. E poi la provincia di Ancona con la storia di questa casa a luci rosse subaffittata ad una squillo ad Ancona. Poliziotto però si finge cliente. Sfruttatore finisce invece a giudizio. Complimenti alle forze di polizia per questa importante operazione. 349 39 18 169. La serata di Pasquetta che finisce in tragedia. L'auto va fuori strada. Federico Garulli muore a 20 anni. Qui abbiamo anche l'immagine di quanto accaduto. Feriti quattro amici. Uno di loro è in gravi condizioni. Ecco il teatro della tragedia. Scoppia una rissa tra ragazzini. A Santa Maria Nuova continuiamo questo colpo d'ala di notizie locali. Un tredicenne accoltellato all'addome da un coetaneo. Questa in tanti l'hanno commentata negativamente. Da tra tredicenni accoltellamento. Sì è successo nelle marche a Santa Maria Nuova. Il branco invece scatenato al parco. Un'altra istorsione. Siamo a Iesi. La gang stavolta però è stata riconosciuta dopo l'ultima aggressione. Cosa succede? Prima Santa Maria Nuova accoltellamento tra tredicenni. Qui un branco scatenato. Aggiravano alcuni ragazzi giovani minorenni. Poi li minacciavano di picchiarli se in alternativa non avessero pagato. Ci sono anche ragazzini che hanno pagato cifre attorno ai 200 euro. Ancora notizie. Questa ve l'avevo promessa. Le forti mareggiate che si sono verificate. Ve la mostro. Sulla costa marchigiana. Questo se non erro dovrebbe essere il porto turistico di Numana. Se ho sbagliato chiedovenia. Ma non dovrei aver sbagliato. Qui c'è un piezzo un piezzo de core. Forti mareggiate sulla costa che hanno portato a danni nella zona di Marina di Montemarciano, nella zona di Porto Recanati. Emergenza lupi. Continuiamo a girare le marche. Attaccano le galline e fanno una strage. Allarme tra gli allevatori. L'ultimo episodio solo in ordine di tempo. A Cupra montana. Si susseguono le segnalazioni di lupi nelle campagne della Vallesina. Ricordiamo ancora una volta non c'è pericolo per l'essere umano ma certamente per gli animali d'affezione, il cane da guardia, il gatto di casa. Il rischio c'è. Spiagge e strade. A Marina il mare mangia tutto. A rischio anche le case. Queste immagini ve l'ho mostrata anche perché ce ne sono arrivate. tramite Whatsapp ci avete chiesto di tenere alta l'attenzione. Lo stiamo facendo. Siamo stati più volte sul posto. Ospedale di Macerata. Ci spostiamo verso il Maceratese. Alla buon'ora verrebbe da dire i fondi per l'ospedale assegnati nel 2013, affidati i soldi a 11 anni di distanza. Per fortuna non si erano dimenticati che ci fossero questi quattrini. Il decreto del Cipe che assegna fondi per 2 milioni e 200 mila euro per l'adeguamento dell'impianto antincendio di una parte del vecchio ospedale di Macerata è del 2013. Nei giorni scorsi all'albo pretorio dell'Ast è apparsa la determina dirigenziale. Quindi si procede. Un po' a rilento ma si procede. Il Pesarese. La cittadella dello sport. E poi mi fermo. Consegnato il cantiere. 354 giorni per finirlo. Un annetto. A torraccia anche altri impianti a supporto della pista ciclorotellistica. Prevista pure una palestra attrezzata dotata di uffici e di un'infermeria. Ho detto una bugia. Non mi fermo. Vado un attimo a completare perché mancava la provincia di Ascoli. Pasquetta da sold out. L'assalto dei turisti ai musei. Quali sono però quelli più visitati? Trovate l'articolo sul giornale. E poi rotatoria allo svincolo dell'Ascoli Mare accettata la proposta di sponsorizzazione della Carifermo che ci metterà la sua pezza. Vado a fermarmi ricordando che tra poco faccio il punto sulle previsioni del tempo ma un secondo state con noi. Buongiorno ma anche buonasera cari amiche e cari amici di ETV. Ben ritrovati e ben ritrovati con la nostra vostra rassegna stampa che fa del buongiorno per tutto il giorno il vero e proprio leitmotiv. Dalle 6.45 come recita giustamente a volte neanche ci credo manco io il sito di ETV. Cominciamo alle 6.45 con il break poi del pranzo alle 13.30 e 14.30. 30 minuti concentrati per poi completare il percorso dalle 18 alle 19 con il buongiorno che diventa buonasera. Questo durante tutta la settimana. Poi il giovedì sera il nostro clou, gli approfondimenti, i programmi realizzati dalla nostra redazione Sibilla, le voci della ricostruzione e punti di vista del talk show delle Marche rispettivamente alle 21 e poi alle ore 22. Tante notizie dal nostro sito le abbiamo sbirciate, le stiamo sbirciando. Tanti messaggi arrivano da parte vostra. Avete sempre la precedenza per noi. Per cui Teresa, buongiorno. Lamine, buongiorno. Margaretta, buongiorno. Loretta, buongiorno. Grazie anche all'amica Terzina che a San Ginesio di Arcevia ci ha ricordato lo scocetto, lo scocetto. Caro Maurizio, buona Pasqua e complimenti sempre. La Pasqua vale anche oggi, anche se la festa è stata appena fatta, sia perché ancora dobbiamo digerire, ma sia anche perché ogni giorno possiamo rinascere. Buona Pasqua e complimenti sempre. Questo evento riguarda il nostro dialetto tra i più antichi d'Italia e forse il più antico d'Italia. La mia opera è stata radatta nel corso di circa 40 anni. Ne puoi parlare per favore? Io come autore non ho interessi economici, ho solo l'amore per le nostre terre. La presentazione del vocabolario del dialetto di Mattelica di Ennio Donati, sabato 6 aprile al teatro Pier Marini di Mattelica, dove tra l'altro ho avuto il piacere anche di presentare alcuni appuntamenti anni fa. Bravo, complimenti, non bisogna mai dimenticarsi le nostre origini. Ennio Donati, vocabolario del dialetto di Mattelica, uno dei più antichi, ci ricorda giustamente. Appuntamento il 6. Lungo fiume Musone ieri che ho trovato pulito. Ho, e questa è una buona notizia, non so se c'è del sarcasmo nell'aria, da questa foto mi pare effettivamente pulito, senza cioè rami, ramacci, sterpaglie, detriti, per cui grazie il visitare i nostri luoghi del cuore durante il periodo di Pasqua e Pasquetta ci ha permesso anche di fare la verifica dello stato dell'arte di alcune zone. Pronto a rituffarmi sui giornali e ripartiamo dal via, dal Corriere però. Per chi ci segue già dal mattino abbiamo sfogliato tutte le pagine interne, o quasi, del Carlino. Adesso facciamo lo stesso esercizio con le pagine interne del Corriere Adriatico. Andiamo alle notizie subito locali. Con questa notizia, un attimo, diciamo, il Corriere è pesarese, però questa vi ha fatto molto discutere e allora un attimo la voglio circostanziare. In che senso Traini è stato con i parenti, eccetera? Allora, Luca Traini chi è? Siamo a Tolentino. Luca Traini è lo sparatore di macerata, quel ragazzo che nel 2018, il 3 febbraio del 2018, sentendo il radio, un sabato mattina noi eravamo di lavoro, sentendo in radio alcuni commenti molto forti, alcune descrizioni troppo dure, crude, di come la povera Pamela Mastropietro fosse stata massacrata da innocent o segale, come avrebbe poi chiarito il processo. Quei dettagli, quegli aspetti gli fecero scattare una scintilla per cui invece di andare in palestra, c'aveva il borsone della palestra in macchina, andò a prendere la pistola e cominciò a sparare all'impazzata per le vie della città, ferendo sei neri. Era il 2018, c'è stato il processo, c'è stata la condanna, Traini sta scontando una condanna a 12 anni per strage con l'aggravante dell'odio razziale, ma è previsto dal nostro codice di giustizia che alcuni giorni dell'anno li possa passare in famiglia, anche per recuperare la socialità. Traini a Pasqua con i suoi, quel Luca non c'è più, il padre dice è cambiato, sarebbe giusto dargli i domiciliari. Su questo apriti cielo, tanti hanno criticato, non doveva stare con i parenti eccetera eccetera. Io mi sono permesso di ricordare, non perché c'è tifo Traini, stai con Traini, assolutamente no. Io sto con la giustizia italiana, la Costituzione italiana è una legge bellissima, è la legge delle leggi e cosa dice la Costituzione? Che è la legge sotto la quale dobbiamo stare tutti quanti, che la pena, l'ho detto tante volte fino a diventare noioso e chiedo scusa, la pena deve essere non punitiva e basta, deve essere riabilitativa, cioè deve permettere alle persone di tornare alla vita, alla vita normale. Andiamo ora alle notizie, eravamo con il Corriere per Ascoli e Provincia, facciamo Ascoli e Provincia con il Carriere. Le paline segna via di velte sui monti gemelli. Nardi che dice chi vede qualcosa deve denunciare, c'è qualche sfigato, diciamo sfigato, che si diverte a buttare giù le segnalazioni messe su un cima alle montagne, quindi non è proprio comodissimo portare un palo segnaletico su un monte. Il presidente del CAI, Val Vibrata Monti Gemelli, dice chi compie questi gesti è carico d'odio, si ripetono anche danni alle autovetture degli escursionisti lasciate alla partenza di questi cammini sui monti gemelli. Proprio sfigato, chi fa una roba del genere è uno sfigato. Pasquetta da sold out, sempre da Ascoli, assalto dei turisti anche ai musei, Pinacoteca e Forte, i più visitati. Scuccetta è di Reggio Emilia il nuovo campione del mondo, la festa della Scuccetta di cui abbiamo parlato poco fa grazie alla nostra amica Terzina. Altre notizie, aggressioni, risse, droga e allora bodycam ai vigili urbani. Sono quelle telecamerine che sono già in dotazione alle forze di polizia americane, eccole lì, riprendono praticamente tutto quello che accade. Accesso ai nidi, priorità alle famiglie disagiate, assegnati sempre ad Ascoli, punteggi alti se i genitori lavorano e i nuclei sono numerosi. In quel caso i genitori hanno davvero tanto bisogno di avere l'appoggio dell'asilo. Rotatoria allo svincolo dell'Ascolimare, cari fermo, pagherà la riqualificazione e in cambio metterà il logo. Accettata la proposta di sponsorizzazione dell'istituto di credito. Due risoluzioni al vaglio del comune. Ancora scontro, tre donne ferite, tensione all'incrozzo, guardate l'incidente, insomma il teatro è abbastanza chiaro come immagine forte, un altro schianto all'incrocio fra le vie Pizzi e Caratafimi. L'incidente di cui parla l'immagine è quello avvenuto nella tarda serata di Pasqua in centro alle 22.30. Molte persone tra l'altro stavano passeggiando per le vie richiamate dal fragore di uno schianto. Lo scontro all'incrocio tra via Pizzi e via Caratafimi. Ci è mancato poco che questa macchina finisse addosso al negozio. Superato a San Benedetto invece il primo banco di prova. Ora inizia la pulizia della spiaggia. Molto soddisfatto per l'affluenza turistica durante queste vacanze di Pasqua si ha detto il sindaco di San Benedetto. Andiamo ora dopo Ascoli e provincia ad Ancona e provincia. Faccio lo stesso lavoro, cioè quello di sfogliare con voi e per voi le pagine interne. La prima notizia del Corriere, così come un po' per il Carlino, è la Pasqua Boom. Il grande successo, test superato, titolo simile anche a quello che abbiamo letto da San Benedetto. Alberghi pieni, quelli che però erano aperti. Scatta già la volata per l'estate. Non è manco finita la primavera, già si parla d'estate. Estate al top, con un brand unico e un'area vasta per gli eventi. Questa è la ricetta di Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato imprese. Ancona, Pesaro, Orbino. Bene, la tripletta di Pasqua. Pierpaoli, già in fase di campagna elettorale, aveva lanciato questa idea, l'idea di un brand unico che possa racchiudere tutte le eccellenze dell'Anconetano. Intanto arrivano i croceristi. La stagione delle crociere scatta venerdì con MSC Lirica. Il Boulevard, che vede la luce, qui siamo ancora ad Ancona, dopo un'odissea di quattro anni, lavori fatti, lavori sospesi, lavori ripartiti. Balaustra e marciapiedi del secondo lotto di via 29 settembre. Oramai ci siamo, anche se fino adesso certezze non ne abbiamo. Ancora notizie, questa volta ci portano verso l'entroterra o comunque altre zone, non solo il capoluogo. Spiagge e strade, il mare mangia tutto. Occhio, sono a rischio le nostre strade, le nostre case. Ancora SOS a Marina, non arriveremo così all'estate. Tittarelli parla di acqua vicina alle fogne perché se per il momento qualche metro c'è ancora, prima che le onde si mangino le case, intanto però le tubazioni sono lì, ancora più vicine. Osimo, ex Muzio Gallo, 36 anni di vergogna. Fateci aprire almeno l'area verde. La proposta è dell'associazione Insieme per San Paterniano a Regione e AST. Centro diurno per anziani. Questa potrebbe essere l'idea per ridare una dignità al nobile ex Muzio Gallo. Emergenza Lupi a Cupra Montana. Qui mi avete chiesto di segnalare. E lo faccio. Attaccano le galline e fanno una strage. Campagne della Vallesina prese letteralmente d'assalto da un branco. Agricoltori preoccupati. In taglio alto invece la cronaca da Iesi scoppia una rissa tra ragazzini, 13enne, accoltellato all'addome da un altro 13enne. Come si fa a girare con un coltello a 13 anni? È solo uno dei tantissimi commenti negativi. Shock a Santa Maria Nuova durante la zuffa. Il nordafricano è stato colpito da un coetaneo. Sul grave episodio, tredicenne, tredicenne, tanta roba. Indagano i carabinieri che devono verificare la presenza in zona delle telecamere. Passo un attimo da voi. Patrizia, buongiorno. Luciano, buongiorno. Patrizia Zannotti, ma anche Patrizia Camilletti. È pulito, ne sono contentissima. Devono continuare così a tenerlo pulito. Grazie. Patrizia interviene su un fiume. Poco fa ha inquadrato il musone che è stato visitato ed era pulito in questi giorni di Pasqua e Pasquetta una capatina da quelle parti. Sandro Bartoccioni, buongiorno e grazie. Torno, per completarlo, al Corriere legato alla provincia di Ancona. E purtroppo agli esi, bulli scatenati, c'è un'altra estorsione mezzo branco dei giardini, però ha un volto stavolta. Sono stati beccati ragazzini rapinati al Parco Esedra. La chiave è questa. Arrivano in gruppo, beccano uno o due ragazzi, amici, che passeggiano, che stanno lì a farsi i fatti propri. Se non ci date i soldi, vi picchiamo tutti insieme. Siamo in dieci contro due, vi facciamo la faccia gonfia. Purtroppo questo è quello che gira intorno a noi. Scattano le grandi manovre in spiaggia per il restyling a Senigallia. È corsa contro il tempo. L'assessora all'ambiente campagnolo spiega c'è un tempo, c'è una data, tutto deve essere pronto, il 10 maggio. Il nodo però del servizio di salvataggio. Pasqua invece shock purtroppo da Arcevia. Se è vero come è vero che tanti si sono goduti, giustamente. Un po' di riposo, di gita fuori Sportas, di vacanza. C'è chi ha approfittato del fatto che le nostre case fossero vuote e sono diventate ancora più vuote. L'Interland nel Mirino. Siamo in zona Arcevia. Quattro blitz. SOS Sicurezza scatta il piano telecamere a Serra dei Conti. Presentato per tutta risposta un progetto da 136 mila euro. Intanto una buona notizia ad Arcevia, amiche e amici dell'entroterra. Riapre la farmacia. È stata trovata una nuova direttrice. Riaprirà oggi, finalmente, amiche amici di Arcevia, la farmacia comunale. Dopo le polemiche sollevate dai cittadini per la carenza di questo servizio che è decisamente un servizio primario. Vi porto a Macerata. Continuiamo a girare le marche con l'informazione. Il corriere adriatico maceratese che mixo, eccolo qua, il fiume Musone ieri ci hanno confermato, bello bellissimo, pulito, guardate che scenario bucolico. Sembra la campagna inglese. Buongiorno, per quanto riguarda la notizia del suicidio per amore, per carità non giudico. Una donna, una moglie, guarda il marito nella malattia di ogni genere fino alla fine. Un marito invece non ce la fa. Non ce la fa da accudire, ad accettare le varie separazioni, tutto ciò che no, nella loro vita una donna supera tutto. Comunque condoglianza è vivissima. Grazie per questo pensiero e il concetto qual è. Le donne sono capaci di superare ogni prova, ogni ostacolo. Quando invece ad accudire la persona cara malata e il marito verso la donna, il marito non ce la fa. Insomma, che le donne siano migliori degli uomini, su questo non ci piove. Buongiorno Maurizio da Giulia. Grazie cara Giulia. Io mi dedico un attimo a questa immagine perché è stupenda e merita di ingentilirci il cuore. Anche perché oggi di notizie brutte purtroppo ve ne ho raccontate tante tante troppe. Forse ecco qua il carlino, no scusate, il corriere maceratese della vicenda di Luca Traini, lo sparatore di macerata. Abbiamo detto quel Luca non c'è più, ha passato la Pasqua in famiglia, era pericoloso, deve stare in prigione. Insomma, sta vivendo un regime carcerario con anche questi momenti domiciliari. Il papà chiede addirittura che possa vivere gli arresti domiciliari, cioè che non torni più in carcere rispetto a tutti i punti di vista. Ospedale alla buon'ora, macerata eh. Fondi assegnati nel 2013, quindi siamo nel 2024, i lavori affidati, i fondi sono stati, ok, i soldi te li do, è successo nel 2013, i lavori affidati, cioè ok con quei soldi facci questo, 11 anni dopo. Adeguamento dell'impianto antincendio, intervento da 2 milioni e 2 nella parte vecchia della struttura. Verrebbe da dire davvero meglio tardi che mai. Eccola la tragedia di Corridonia di cui in diversi avete scritto, avete commentato, uccide con il fucile la moglie malata. Non sopportavo di vederla soffrire. L'uomo ha poi tentato il suicidio, massimo rispetto va dato e tanti stanno anche scrivendo di questo alla famiglia, alla figlia che ha perso la mamma e che sta perdendo il papà perché il papà è grave in ospedale, ma se, e speriamo, guarirà poi andrà in prigione. Ti amerò per sempre mamma. Questo è il messaggio della figlia. Angelo mio, prega per me, aiutami a superare questo momento mamma. Ti amerò per sempre. Le toccanti parole che Stefania Cartechini, figlia della donna uccisa in contrada da Maccina, ha affidato alla sua pagina Facebook. Ecco, chi è tanto prodigo di giudizi, di commenti, non dimentichi che c'è anche questa donna, c'è la tragedia di una coppia ma c'è anche la figlia. Auto fuoristrada, dramma nel dramma, giovane muore, altri quattro feriti, uno gravissimo. L'episodio parte da Mogliano perché si è verificato a Francavilla Dete, ma i ragazzi erano originari di Mogliano. Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada. Altri automobilisti si fermano in lontananza alle luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili del fuoco. Queste le immagini più forti di una notte di dolore. Cagnolini abbandonati in superstrada. Qui tanti ci avete chiesto si possono adottare, li vogliamo adottare. Ci siamo fermati e li abbiamo salvati. A Tolentino è il racconto di una coppia di Assisi che si accorta di questa situazione. I carabinieri intanto hanno affidato i cuccioli al canile. Eccoli qua, quattro cucciolini. Sembra impossibile che possa accadere, eppure c'è chi ha ancora la codardia di abbandonare Cagnolini in superstrada con rischio che facciano pure una finaccia. È successo nel giorno di Pasqua, nonostante sia più facile pensare che nei giorni di festa si possano intenerire anche i cuori più duri. Invece in questo caso no. Silvan Bazsoffia e Alexia Cavadenti sono questi due amici umbri che hanno salvato questi quattro cucciolini. A Moscosi di Cingoli risplende la chiesa di San Nicolò. Festa per la riapertura, lungo Iter, ma ci siamo riusciti. Da Cingoli a Belforte del Chienti, laboratori scolastici, via libera al piano da due milioni e mezzo di euro. Offerta migliore per i nostri studenti. Mi dovrei quasi fermare. Ho pronto però il Corriere per il Pesarese, l'ultimo giornale che mancava, passando sempre da voi. Buongiorno Maurizio, te l'ho mandata adesso perché dopo non riesco, poi più tardi te lo ricordo. Ciao ciao. C'è il video, il video del martedì, del nostro grillo parlante Andrea Giorgetti. Ce lo godremo come da tradizione quando arriva in studio il collega Alessandro Tizzani per il buongiorno e buonasera. Il Pesarese, dicevo, con la cittadella dello sport, consegnato il cantiere 354 giorni e sarà finito. A Torraccia anche altri impianti a supporto della pista ciclorotellistica. Eccola qua, l'area 105 mila metri quadrati a Torraccia tra le vie Gagarin e Grande Torino. Chi fosse nei dubbi, ma cosa ci fanno lì? Qual è il cantiere? È la cittadella dello sport. Purtroppo si parla anche di Amianto a Pesaro. Casi irrisolti in almeno tre quartieri. Malandrino e Boresta di Fratelli d'Italia intervengono su Monte Ciccardo, Pantano e Muraglia. La Movida sold out per Pasqua a Pesaro. Solo il maltempo ferma a un certo punto la festa perché a metà pomeriggio è arrivata la pioggia. Molti locali che hanno aspettato il lunedì dell'Angelo per il debutto hanno dovuto rimandare. Ma insomma, che le previsioni del tempo fossero queste, lo avevamo detto in tutte le salse. La casa delle vacanze non esiste, ma chi l'ha proposta la fa franca. Il PM chiede un anno, ma il giudice assolve la donna che era stata accusata di aver fatto sto raggiro per insufficienza di prove. Immaginatevi prenotare una vacanza, buttare giù la caparra, pagare la caparra e poi ritrovarsi con un pugno di mosche. Sono impegnato nelle elezioni, lascio il consiglio studentesco. Il 27enne Giovanni Alvarez rivendica i risultati conseguiti negli ultimi 15 mesi ed è pronto a lanciarsi nel lagone politico. salvata a Tecchie, escursionista caduta nel dirupo. Ecco il luogo della caduta, vigili del fuoco, soccorso alpino e 118, una task force per raggiungerla in questo punto impervio del bosco. Si è verificato l'incidente a Cantiano. Fano, DJ set durante la messa, nell'orario della messa di Pasqua. Il priore dice, beh qui fuori c'è un gran baccano, la difficile convivenza della basilica di San Paterniano con il dirimpettaio cocktail bar o fucina con la musica alta e quindi durante la celebrazione della messa c'era un po' di confusione. il parapiglia con le immagini che hanno fatto un po' il giro d'Italia da Fano, identificato l'autore dell'aggressione di sabato scorso in via Arco dell'Augusto, un egiziano di 22 anni che ha selvaggiamente picchiato un tunisino di 26, accanto a quanti nel pomeriggio della vigilia di Pasqua si facevano una piacevole fino a lì. Poi è stata interrotta la piacevolezza passeggiata. Le immagini che in parte sono state diffuse sui social hanno permesso l'identificazione del presunto colpevole. Ombretta, buongiorno. Silvana, buongiorno. Mi fermo. Siete in tanti a chiedere anche le previsioni per la settimana. Che settimana sarà? Il vento passa, oggi ancora vento forte, poi migliora. Mercoledì, domani, nuvoloso, ma senza piogge e poi fino a sabato una carrellata di bellezza. Tra poco state con noi. Buongiorno e buonasera, cari marchigiani, cari italiani, ben ritrovati, ben ritrovati. Buongiorno e ben ritrovati. Buonasera al maestro De Ché. Buongiorno e buonasera. Alessandro Tizzani che è sopravvissuto alla Pasqua e alla Pasquetta e non era così scontato. È stato un momento difficile, drammatico, è partita da sabato la maratona. Miglior in campo. Miglior in campo, è partita sabato ed è finita lunedì e con pizza conclusiva. A pizza? Ieri sera. È chiuso al ristorante. Con la pizza, sì, non ce la facevo più. Infatti adesso questa settimana voglio vedere. E poi, come tutti gli italiani, parte la famosa dieta, no? Ormai si arriva per prova costume. Non ti frega perché è martedì. Di solito le diete cominciano il lunedì, no? Sì, di solito. Abbiamo mangiato... Lunedì, nessuno. Martedì, perché poi c'è la prova costume, no? Per chi sta al mare. Quindi siamo aprile e maggio, ma qui già si va al mare, quindi poi quella panzetta... Io, prova costume, per ora ho fatto l'infradito. L'infradito vanno bene. Buongiorno, anche se freddino, con gli ultimi mandarini. Antonio e Leonida dei poeti. Oh, i mandarini, i mandarini. Sì, è il frutto che non va mai a fare la spesa. Perché mandarino? Perché c'è mandarino. Questa è dura, è dura, è dura. Ho mandato un video che riassume un po' quello che ho mangiato questo weekend, tra cui il Profiterol. Il Profiterol che mi sono trovato da sabato a lunedì e quindi anche al ristorante. Prima ho fatto il compleanno sabato della mia nipotina e di mio suocero e c'era il Profiterol al cioccolato. Hai aggiunto un giorno di festa per cui tu... Esatto, poi domenica sono andata a pranzo e io indovina cosa c'era come i dolci nei ristoranti, i Profiterol. E qui mi sembrava un po' la belva umana, che la mamma della belva umana faceva mangiare i Profiterol. E ti è sovvenuto questo momento mitico, catartico. Vediamocelo. Non c'è nessuno? Non c'è nessuno? Insomma, anche qui stanno loro, perché? Ecco, guarda cosa c'è. Questa signora chi è? È la mamma della belva umana, che lui era... L'avevano scambiato per la belva umana, non ti ricordi il film? No. Allora lo manda alla belva umana a casa della mamma, perché lui a casa della mamma non ci andava mai. Anche perché la mamma lo faceva mangiare tanto e gli dava sti Profiterol al cioccolato, che c'era cresciuto fin da piccolo. E quindi lui gli veniva addirittura l'intossicazione alimentare. Allora ci manda Fracchia e quindi c'erano i carabinieri e la polizia che cercavano di incastrare la belva umana. E questo è un pezzo divertente. Quanti Oscar ha vinto questo... Dieci per me, dieci. Per te dieci. Andiamo sulle notizie che condividono con noi gli amici del pubblico, per favore. Caro maestro, mia moglie ha fatto l'esame di guida oggi. Complimenti. Come è andata? Ha preso 8 su 10, cioè in due sono riusciti a salvarsi. Non è vero. Le donne, diciamolo, sono più brave di noi maschietti a guidare. Non fanno incidenti. Li provocano, come dicevo. Più prudenti. No, non è vero. È una battuta, è una battuta. Poi ancora, questa è carina. Sto tempo è talmente stabile che domani mi faccio polenta e melone. Perché qua così è una... Eh sì, eh sì. Un giorno è caldo, un giorno è freddo, un giorno c'è il vento, un giorno... Ho letto il vento del Sahara che porta la sabbia e metalli e quindi questo rosa rosso che si sta vedendo. È una cosa normale. E poi ci respiriamo tutto, maestro. Eh, respira, respira. Ti porti la sabbia a casa. Esatto. E poi, quando stai per partire per un viaggio in Francia ed esci a comprare le ultime cose. Il bidet. Vabbè, qui dappertutto. Quasi tutto il mondo. È un amico che attraversa, sembra quasi il corso Garibaldi ad Ancona e si porta dietro il bidet. Perché in Francia, caro maestro... Ma non è solo in Francia. In Francia c'è il bidet, l'hanno inventato loro? No, no, no. Forse in Inghilterra. E anche la musica per evitare, quando tu lo sai, quando vai al bagno perché fai rumore, perché uno non è che fa più bisogno in silenzio e addirittura loro mettono la musica. Te pensa che è sciccheria. Sì, una volta facciamo vedere anche un video di come funziona. Sì, sì, ma lo facciamo vedere. C'è un aneddoto che il maestro Santini, Marco Santini, che è stato in tournée in Giappone più volte... L'ha verificato. Lo racconta spesso. Buongiorno, leggi strane e dove trovarle? Vediamo un po'. Where is it illegal to pee in the ocean? Cioè, dice in inglese, dov'è illegale fare il pipì nell'oceano? Solo praticamente in Spagna e Portogallo, altrove si può. Sì. Da noi si può fare... Sei in mare. In mare. Ci dice anche ai bimbi, no dai, ti scappa. C'è l'ammoniaca, addirittura. Vai a farla in mare. Ci sono degli studi sull'ammoniaca. Si fa bene. Quasi fa bene. Ci si fanno anche gli sciampi. Sì, sì. Infatti ne fatti parecchie. Questa è una battuta di Aldo Giovanni e Giacomo. Dell'ammoniaca. Degli sciampi all'ammoniaca. E quindi in Spagna, mi raccomando, Maestro, se vai in Spagna o Portogallo e ti scappa la pipì... La puoi fare in mare? No, no, non la fare in mare. E' una zona dell'Europa dove non si può... Ah, è l'unico posto dove non si può fare pipì. Pensavo che in tutta Europa sì. Noi sì. Che non si poteva fare pipì. E in Spagna. Eh, se vede che lì ci sono le balearie. Cioè, che in Spagna bevono talmente tanto che quando va... E' a voi, a voi. E' a voi, diciamo. Lì con la sangria e con il calimocio. Sai cos'è il calimocio? No, non so. Vina Coca-Cola che si beve in Spagna. Il calimocio. Il calimocio. Chiedi, chiedi, chiedi. Chiedi, chiedi, c'è gli amici spagnoli. Cos'è il calimocio. Tu sei molto più avvezzo e avvinazzato di me. Fiasca and Furious. Un nuovo film, carina. Quella cos'è? Una 127, credo, maestro. Eh, mi sa di sì. Mi sa proprio di sì che è una 127. Auto d'epoca. Sembra Fantozzi. Sembra Fantozzi. Sembra Fantozzi. Guardate come carica tutto contento del buon vino. Che non è mancato su queste tavole di Pasqua e Pasqua. No, non è mancato. Buongiorno, biglietto Milan-Roma d'Europa League preso. Vi manderò qualche foto il giorno dopo. Bellissimo. Buona giornata. Ah, però, ah, però. Eh sì, allora, vabbè, non parliamo della situazione in campionato perché praticamente è da ridere. Invece vediamo un grandissimo esempio. Per chi? Per tutti. Per Cefaride. Perché l'Inter vince con 50 punti di vantaggio e questo non è bello da vedere in un campionato a prescindere che poi non sei neanche con i più attaccanti. Ormai gioca con le ale di Marco. Poi ti vai a vedere il Tudor nella panchina della Lazio. Basta mettere un 3-4-1-2, un 3-4-3 che potrebbe giocare tranquillamente Allegri. e Allegri si difende fino al 94-esimo, prende guarda al 94-esimo con corto muso. All'ultima palla giocata. Giusto, facendo giocare un ragazzino che non so dove, che non ha fatto la diagonale invece che ha perso palla in attacco, dando un attacco. Poi ha seguito l'uomo che poteva lasciare un fuorigioco su un cross. Quindi chi l'ha fatto entrare all'ottantesimo per difendersi? Ovviamente Allegri. Il buon Max. E invece c'è stato un grande singer che ho visto tutta la parola. Oh, parliamo di cose belle. Dimitrov che ha battuto. Il ragazzo è il numero due al mondo e ce ne sono due al mondo. C'è lui. Il Lecce aiuta Allegri, ma oggi Max ci gioca buona parte di futuro. Cioè, la Juve deve badare ai risultati delle altre squadre tipo la Roma. Allegri il prossimo anno out. Perché io, tempo non sospetto, quest'anno, faccio una piccola analisi. So tre anni che questo allenatore sta alla Juventus. Da quando è tornato. Non mi sembra che ha vinto nulla. L'anno scorso c'è avuto la motivazione delle plusvalenze e tutte le polemiche. Il secondo anno, ma il primo già era andato così. Già il primo era andato così. Abbiamo vinto la Coppa. Cos'era? Abbiamo vinto una Coppa. Coppa Italia, una cosa del genere. Zero. No, no. No. Si siamo qualificati? Vabbè. Zero titoli. Il calcio, le partite sta peggiorando. Perso in finale contro l'Inter, il primo anno. Il gioco sta peggiorando. E quindi tu, come ti dicevo, quando vinceva, ragazzi, a un fuoco di paglia. Perché vince tutte le partite al 93esimo, con i 4-5 risultati, che facevi testa e croce. Alla fine, poi, se non c'è gioco, la paghi. E sono nove partite che non fanno un risultato. E quindi, stasera c'è la Lazio, c'è la partita con la Lazio, di Coppa Italia, che ormai puntiamo tutto sulla Coppa Italia. E devi sperare che le altre non vincano. Perché la Juve non vince più. Hai paura del Bologna, che potrebbe, adesso a due punti, potrebbe anche superarti. Ormai il Milan se ne va. Buongiorno, te l'ho mandata adesso il mitico grillo parlante Andrea Giorgetti, che oggi, mi sa che si sfoga un po', sulla Juventus. Ah, ma c'è poco da sfogarsi. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutto il pubblico. Oggi volevo parlare di un argomento un po' particolare, ovvero la mia squadra del cuore, la Juve. Mamma mia, che disagio. Allora, io per vedere le partite della Juve, pavo la bellezza di due abbonamenti, ma ultimamente la mia media per vedere la partita è di 5 minuti. Poi cambio canale perché mi viene da piangere. Allora, io non sono un allenatore, ma si può far giocare un calciatore che da un anno è infortunato e tu me lo metti titolare contro una super squadra come la Lazio. Comunque, con la legge dei grandi numeri, prima o poi la vittoria arriverà. Vedrete. E comunque, carissimi Allegri, ti vorrei dire, tu che dici sempre il nostro obiettivo è la Champions League. Se continui questo passo, non lo so se la Juve arriverà alla Champions League, perché vedo che dietro corrono tutti, mentre la Juve sta facendo una media punti da retrocessione. Comunque, quello che volevo dire io è una cosa sola. Con tutti i soldi che prendono questi calciatori, dovrebbero essere loro che ci pagano alcuni mandati a vedere. Comunque, con questo mio piccolo spogo, vi saluto a tutti, ciao ciao dal vostro grillo parlante, Andrea. Non le manda a dire, eh? È giusto, è giusto. Io invece, Andrea, ho disdetto da Zon, quindi mi è rimasto Sky perché ho il figlio piccolino, quindi ieri purtroppo l'ho vista su Sky, la partita della Juve. La sfiga era che la trasmetteva Sky, eh? Sì, la trasmetteva Sky, quindi l'ho vista tutta e, come detto te, dopo cinque minuti mi era già nervosissimo. Poi ho visto anche il bellissimo cambio che ha tolto, no, no, sì, purtroppo è così. Ho visto De Sciglio con la palla tra i piedi intrecciarsi e farla uscire a... No, no, io non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, dopo un po' l'ho vista, giravo, riguardavo, giravo, riguardavo, poi purtroppo ho avuto anche la sfortuna di vedere il gol alla fine e proprio lì mi ha rovinato. All'ultimo secondo. Allora, ci sarebbe stato invece, gli amici di Roma, ci scrivono, ci sarebbe stato un rigore grosso come una casa a favore della Roma. Si, 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 si è sfocato. Però c'è anche questa immagine che ci manda invece un amico, forse laziale, e allora questo non è rigore? Insomma, siamo un po'... tra l'altro è coinvolto Uisen, eh, su, upa la peppa, vediamo un po'. Insomma, De Rossi era molto arrabbiato a fine partita. Sì, bisogna dire che la Roma ha un punto guadagnato, perché Lecce ha giocato, addirittura sul finale ha fatto due belle parate. Ci sono stati errori davanti alla porta, che anche io e te, caro maestro... Il discorso è che De Rossi sta cambiando, poi ha fatto entrare Di Bala dopo, c'è la partita della Coppa UEFA, che conta molto, e poi dopo c'è lo scontro con la Juve, quindi sono tre punti facili, ha fatto... Eccolo, eccolo l'episodio contestato, Zaleschi anticipa nettamente... Ma questi qui non è nessun calcio di rigore, ma neanche quello di prima, una volta non si fischiava nulla, e cominciamo a non fischiare nulla e vedrai che poi dopo si lamentano, invece di lamentarsi della brutta prestazione della Roma. Ma sono concentrati perché c'è il derby in Coppa UEFA, Milan e Roma, no? Che sono molto concentrati perché... Invece c'è l'occasione calamorosa di UAR, che è stato però ipnotizzato da Falcone. UAR aveva fatto gol in Champions League alla Juventus. UAR! Ce le ricordiamo tutti. Ho mandato un video di Fantozzi. Intanto dicono, ci scrivono via WhatsApp, tutti possono essere perdonati tranne Giuda, perché Giuda ha fatto uccidere uno che trasformava l'acqua in vino. C'era uno così che bisognava tenere sullo strano. È giusto, nelle nozze non c'era il vino. Non è solo quello che alle nozze di Cana... Beh, l'ero fatta apposta, l'ero fatta apposta. C'è stata la lobby del vino, erano preoccupati, sono preoccupati che poi dopo finiva. I vignaioli, quindi post Pasqua, queste classifiche sono un colpo al cuore. Cose più buone da mangiare in Emilia-Romagna. Vediamo un po'. Vediamo. Tagliatella ragù, ragualla bolognese, piadina romagnola, gnocco fritto crescentino, ammazza gnocco fritto, lasagne, tortellini, erbazzone, cappelletti in brodo, tortelli di zucca, tortellini in brodo. Anche gli amici dell'Emilia-Romagna... Eh, vabbè, danno giù. Io invece i vinci sgrassi, quattro giorni di fila, bianchi, rossi, quindi tre giorni vinci sgrassi. L'agnello fritto, caro Maurizio, oliva alla scolana, cremini e frittini come se non ci fosse un domani, quindi sono quelle. C'è anche chi ha provato a gabbare... ...divenere di santo. È giusto, è un pesce. Che Gesù non se ne accorga, cioè veramente, c'è una bistecca a forma di... Di pesce, è bellissimo. È pesce d'aprile, quello. Sì, hai fatto il pesce d'aprile tu? Eh no, non ho fatto nessun pesce d'aprile, non ho neanche letto tanti pesci d'aprile, anche perché era festa, era pasquetta. L'orto dei gezzemani, cioè dei gezzisti che stavano nell'orto... Nel gezzemani cosa accade nell'orto dei gezzemani, caro maestro. Non lo so cosa accade. Arrivò Giuda con le guardie... E dice tre soldi... Erbagio, Erbagio. Ah, Erbagio, Erbagio. Un tradimento al bacio. Il video che stiamo... Mamma mia, sono preoccupato che... La raccolta, la pensione. La pensione poi dopo, per farti capire che il problema dei giovani, dopo l'altro video, è sempre ricorrente, quindi... E' molto, vedi, come Fantozzi era attuale, è sempre attuale. Andiamo ora a vedere questo video, c'è però un sacco di... Di pubblicità, lo so. Eccolo, eccolo, vai. Scusi tanto, signora, sa dov'è che danno la pensione? Dove? Da? Eh, grazie. Molto gentile... Chirini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo, Fantozzi. No, no, no. Ah, vorrei prendere la pensione, supponso. Sì, là, ce l'ha il numeretto? No, dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Ah, grazie. Fantozzi, che pacchia questa pensione, si prendono i soldi senza lavorare. È qui. Grazie. Sì, è vero, ma non so lei, al mattino ogni tanto non sente come un... Giramento di testa? No, è come un... una nostalgia. Numero 32! Vabbè, mi hanno chiamato, eh. Arrivederci. Allora, a presto, a presto. Numero 32. Pensionato numero 32. Ricevuto! Ragazzi, c'è per 32. Isce l'ar 32. Eccolo, siamo noi. Queste pensione le giri, è di quella? Per 90. E capirai, qua non c'è. Eccolo! Dal produttore al consumatore. Attualissimo! Almeno una volta li vedi passare, adesso sono tutte telematiche. Adesso te li rubano direttamente dalla barra. Sì, esatto. Buongiorno a tutti voi, riguardo al Bidè in Francia confermo, non ci sono, ci ho abitato per dieci anni. Nonno Libero conferma Stizzozoni dei francesi, ma il nome l'hanno dato loro, però Bidè, non è che si chiama... Eh, però non ce l'hanno i fagenti. Complimenti agli esordienti 2011 della Giovane Ancona che si sono aggiudicati il torneo Città di Filottrano. Un applauso a misteri dirigenti, ma anche a tutti i genitori. Grazie alla vicepresidente della scuola calcio Giovane Ancona, Lorella Belvederesi, che ci dà questa bella notizia. Caro maestro, 2011... Ma si è giocato anche sotto Pasqua, eh? Sì. Non c'è la pausa? Eh, no. Gli altri bambini mangiavano le uova, loro... Eh, bruciavano, bruciavano. Ah, sì, dai. Vediamo anche il posto con il quale la Giovane Ancona ha celebrato questo successo. Molto bravini. 2011, maestro, sono piccoli, eh. Eh, sì. Eccoli qua, mano sul cuore. Cioè, era il Lino d'Italia? Penso di sì, era un torneo importante, prestigioso, giocato a Filottrano. Ci avevano anche la curva, caro maestro, guarda. Eh. La torcida, la torcida... E la miseria. ...dei genitori. C'è questo papà con la sciarpa della Giovane Ancona. Ecco qua i misteri, i dirigenti e compagnia cantante. Bello, bello, dai. Bellissimo, intanto stavo cercando la formazione di Juve Lazio per farmi male. Ma perché, maestro? E ti ho mandato il video che, vedi, come si parlavano dei giovani 40 anni fa, è lo stesso problema di oggi, vedi, quindi i giovani sono sempre un problema alla fine, capito? Si criticano sempre, no? E quindi sempre fantozzi, oggi facciamo il fantozzi. Oggi sei fantoziano. Sì, oggi faccio il ziano. Allora, intanto ci ricordano questo... L'ho fatta vedere già questa foto in realtà. Cent'anni, cent'anni, caro maestro, complimenti e tanti auguri... E del 24. Alla signora Clara di Acquassanta Terme che festeggia i suoi cent'anni. Guarda che bella asciuga. Bellissimo, cento anni, Acquassanta Terme, quindi lì c'ha le terme e quindi è normale. E' più l'Acquassanta. E' più l'Acquassanta. E' più l'Acquassanta. E' più l'Acquassanta. Lì per forza devi capare un sacco. Da un lato le terme e dall'altro l'Acquassanta. Come una volta c'erano i ricchi che bevano l'acqua con l'oro, no? E invece qui ad Acquassanta è normale, vivi di più, cent'anni. Attenzione, rispetto alla tua Juve, caro maestro, io credo che i giocatori della Juve, ci arriva questo messaggio, stiano facendo un ammutinamento contro Allegri. Il bounty, il bounty. L'ammutinamento del bounty con un grande... Rasse Crew. L'ha rifatto Rasse Crew? Sì, sì, sì. E' più recente? Sì, sì. Io avrei detto Marlon Brando. Marlon Brando, vabbè, Marlon Brando, sì. La prima versione. La prima versione. Poi io l'ho visto con... Marlon Brando l'avevo anche trasmesso in onda. Sì. Sì, sì, sì. Negli anni belli quando ci proponevi questi bei film. Esatto, e invece Rasse Crew l'ha fatto di recente. Ricente, tra virgolette, 2014 al massimo. Sì, sì. Sì, sì. Vai all'ammutinamento del bounty. L'altro tesino intanto, sì, nel bravo, ma avendo la residenza a Monte Carlo, come altri, non paga le tasse in Italia, soldi che sarebbero utili per il servizio pubblico nel nostro paese. Grazie per questa riflessione, insomma, sulla residenza all'estero di Yannick Sinner abbiamo detto tanto, lui si è spiegato dicendo a Monte Carlo vivono e risiedono i più importanti tennisti del mondo, quindi quando io esco da casa vado in cinque minuti al centro tennis ci trovo Djokovic, ci trovo Medvedev, insomma, perché abitano tutti lì. Eh certo, non si paga meno le tasse. Io ho anche questo motivo per allenarmi che ho preso la residenza lì. Ma lo sai che in Arabia, io andavo a giocare al calcio in Arabia perché là te ti alzi la mattina c'è Cristiano Ronaldo, Benzema... Tu dici che è un discorso di soldi. Io adesso rileggo la polemica che ha alzato praticamente Vasco Rossi, giusto? Che ha fatto un post... Sì, vero, recentissime, ieri l'altro... Poi mi sembra che gli è morta la moglie, giusto Vasco Rossi? Sì, l'ex moglie Gabri, come sei splendido, te la ricordi? Gabri, sì, la canzone... Come faceva la... Non mi ricordo... Poi si chiamava Gabriella Sturani, quindi non dico nulla... Si chiamava... Un nome quasi... Minaccioso, minaccioso... Minaccioso... Domenica, avete già prenotato, mi raccomando, vi manca poco tempo... E quindi praticamente, sì, la polemica aveva alzato sta cosa che lui non ha mai a pagare le tasse qua in Italia e quindi questo era il discorso, però Signe era un campione e è anche un idolo per i ragazzini e soprattutto quello che ha detto, ha ringraziato Dimitrov, il giocatore che è più esperto, ha 32 anni ed era contento di vederlo lì, quindi si è anche un poco bosso, l'avversario... E ha colpito per il suo modo di esultare, ha detto, feste... No, vado a farmi una cenetta tranquilla perché già penso a Roland Garros... L'Oranga, però lì mi sa che anche Arras la vedo dura... Sulla rossa... Sulla rossa, sì, sì... Sarà una bella sfida, dai... Anche perché Bertolucci dice, la nuova sfida di Sindre, anche sulla Terra Rossa è lui l'uomo da batte... Una gufata... Una gufata, sì... Prima era la polemica del terzo, adesso è il secondo, è finito, no? Perché... Adesso che è ufficialmente il più forte del mondo, mai nessun italiano era riuscito... Mai, ci credo... Paperone Sindre, oltre 21 milioni di premi, è già il 26esimo di sempre... Insomma, giustamente... 21 milioni di premi, c'è a Lega che ne prende 10 all'anno... Senza affaticare pallina su pallina... Esatto, su pallina su pallina, poi bisogna vedere... Juve senza Champions, addio a Lega in pole, c'è Tiago Motta... Ma per favore, quale Tiago Motta? Non ti piacerebbe Tiago? Ma no, ma adesso... Perché ci hai bisogno di allenatori sicuri, non c'è bisogno di fare esperimenti, c'è dovevamo tenere Sarri, c'è dovevamo tenere Pirlo, poi vai, cambi e vai con un attore nuovo... Mi preannunci un'altra annata di devastazione? No, ma lei, io spero che non rimanga allegri, però ci vogliono tipo nomi come Conte che dà una garanzia, per farti un esempio, che c'è da rimettere proprio in riga tutto il sistema, ok? Perché comunque dà la società, perché il problema è il can che abbaia ma non morde... La società è sparita di fatto... È sparita, quindi di conseguenza se non c'è una società, non c'è nessuno che se lamenta, non c'è niente, anche l'annatore... Infatti hanno colpito le immagini dei giocatori che a fine partita un po' ridevano... Sì, sì, cioè non c'è... Quindi poi dopo c'hai Allegri che dice calma calma... E poi si arrabbia in panchina, poi dopo dice calma calma... Domandata allora, il video di fantozzi e poi vediamo la formazione, così prima ridiamo e poi panciamo... Sono le 9.30, l'ultimo video in ordine di tempo... Sai che adesso dobbiamo fare un lavoro di sicurezza un po' più lunghietto... Intanto cerca la formazione... Ma se ne ce l'ho, non so qual è che vuoi star peggio... Allora, c'è tornato Gatti... C'è Perin... C'è stato escluso, no? Sì, Perin, Gatti, Bremer, Danilo Cambiasso, Meccanino, Catelli, Arrabio... Costi c'è tornato, Vlaovic chiesa... Quindi questa è la formazione della Juve, mentre la Lazio sembra che faccia un 3-4-3, un 3-4-1-2, ma per me è un 3-4-3... Mandà? Chi ce la mandà? Non lo so... Gila, Romagnoli, Casale, Marusic, Ganduzi, Vinicio, Vessino, scherzo... Scherzo... Zaccagni addirittura esterno... Filippe Andor... Luis Alberto e Immobile, quindi pensa un po' a Tudor come sta giocando... Oddio Ciro... Addirittura ha fatto diversa la formazione rispetto alla partita che ha battuto la Juve, perché parte Immobile dall'inizio, quindi parte con delle strategie... Mi pare anche Luis Alberto dall'inizio... Luis Alberto dall'inizio, sì, perché pensa più che altro... Quanta qualità... Quanta qualità, ma gioca con un 3-4-3... Perché comunque c'è Zaccagni, Luis Alberto... Quanti giocatori effessivi... Filippe Amberson e Immobile, dove li metti? Questa è la formazione che deve fare la Juve, invece che... Fai già un 3-4-3 o fai un 3-4-1-2, metti Ildiz, Chiesa e l'altra punta che non si sa chi è... Vlaovic tornerà... Sì, Vlaovic gioca... L'altro giorno c'era... Chi... Ma adesso, per fortuna... Dopo mi dici il pronostico... E' il momento dell'ultimo tragico, ragionevole fantozzi... E questi qui nessuno fa un cazzo... Insomma... Si alzano a mezzogiorno, vanno a cuccarsi l'aperitivo... Vanno a mangiare dalla mamma... Si fanno il pisonino... Si spattano quelle ragazzotte con quei capezzoli sotto le magliette... A me mi fanno impazzire... E poi le vanno a scaricare al bar come se fossero trofei di caccia... Invece a noi, disgraziati, condannati al vuoto delle nostre vite grigie... Senza i capezzoli e senza il trofei... Come faranno a comprarsi le Porsche... E a vivere da signorini senza lavorare? Cosa fa? Prende in giro? Droga? Struppi? Struppi? Rapine? Io per questa gente qua... Riprimistr... Mi sembra un po' io... Riprimistr... Riprimistr... Farò ritornare la pena di me... E anche la tortura... E anche la tortura per le rapine... Scusi ragioniere... Ma lei... Non la farebbe... Una rapina... E la... Il proseguo chissà... Forse... Tra qualche giorno... Caro maestro... Però vedi... È tema... Tema attuale... Imperativi si divertono... Dove li prendono i soldi... E giustamente... I rideri... D'attualità... E... Pronostico per questa sera? Vittorio... Grazie... Facile... Ti faccio leggere... Neanche... La danno... Sulle scommesse... Della... Della... I bookmakers inglesi... Non accettano... Non accettano... 33... 34... È un miracolo... C'è scritto... Miracolo... Appuntamento a domani... M Sulle scommesse... Grazie a tutti.